ben ritrovati con la rassegna stampa in studio con voi rosario moreno decreto semplificazioni l'accordo nel cdm dalle regole per gli appalti alla nomina entro l'anno dei commissari per le grandi opere riunione notturna per ratificare l'intesa sui punti cruciali del provvedimento dopo giorni di trattative confermato lo stop alle gare per le opere pubbliche inferiori ai 5,3 milioni di euro fino al 31 luglio 2021 ma cambiano le regole e i tempi per le procedure negoziate i partiti di maggioranza hanno trovato un accordo anche sull'elenco dei cantieri di rilevanza nazionale da sbloccare entro l'anno verrà pubblicato un dpcm su proposta del ministero dei trasporti e del tesoro e previo parere delle competenti commissioni parlamentari coronavirus i dati dicono 208 casi in 24 ore 8 da cessi 10 regioni con 0 nuovi positivi tamponi ancora in calo secondo i numeri diffuso dal ministero della salute il trend epidemiologico resta stabile 15 mila tamponi in meno nella giornata di domenica ma il balzo più significativo si registra nel numero delle persone guarite 133 in più da ieri per un totale di 192.241 francia svelati i ministri del nuovo governo all'interno all'interno arriva darmanin la giustizia dupont moretti restano le dryenne e la maire il nuovo primo ministro e jeud castot presenta la sua squadra castaner lascia il posto all'ex ministro del bilancio conservatore elisabeth borne passa al ministero del lavoro e viene sostituita a quello dell'ecologia da barbara pompili alla cultura c'è roseline bachelot nessun cambiamento i dicasteri di esteri ed economia ex silva la procedura di talento apre un'inchiesta sul sulla nube di carbone che sabato si alzata dai parchi minerari arrivando al rione tamburi i magistrati ionici della sezione ambiente hanno aperto un fascicolo e delegato le indagini carabinieri del nuovo per svolgere accertamenti e comprendere cause ed eventuali danni e responsabilità della nube alzatasi dai parchi minerari la cui copertura è stata ultimata negli scorsi mesi riciclaggio 28 arresti a roma anche un dirigente del mese distraevano finanziamenti pubblici sequestrati bene per 5 milioni i carabinieri del comando provinciale di roma stanno eseguendo due ordinanze di custodia cautelare per reati di associazione per delinguere finalizzata al riciclaggio al trasferimento fraudolento di valori e di traffico di influenze in concorso con l'aggravante della qualifica di pubblico ufficiale di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in corso notizie da napoli e dalla campania coronavirus fiammata in campagna 17 positivi isolati a mondragone un focolaio in irpina e in irpinia un altro a mondragone nelle ex palazzine cirio e la positività dell'imprenditore cilentano tornato da new york portandosi dietro il covid non uno ma ben tre casi che spingono il governatore de luca a lanciare un allarme ha detto servono controlli rigorosi sugli ingressi in italia si riferisce in particolare de luca e 17 positivi a mondragone che sono tutti stranieri e all'imprenditore salernitano arrivati in italia praticamente senza alcun controllo e posto subito in isolamento solo all'arrivo a casa poi il tampone ha lasciato dubbi asintomatico ma positivo e così anche in irpinia a serino a confine con salerno dove un 69enne rientrato pochi giorni fa dal venezuela è ora ricoverato in grave condizione mentre i suoi familiari e ben nove sono risultati positivi città metropolitana di napoli via i lavori di manutenzione per santa maria la nova la regia di portici e villa de nicola è stato affidato alla ditta che ha vinto la gara il nuovo accordo quadro per la manutenzione straordinaria degli immobili di particolare pregio storico e architettonico che fanno parte del patrimonio della città metropolitana di napoli tra questi c'è il complesso monumentale di santa maria la nova la regia di portici e la villa de nicola a torre del greco notizie da bari e dalla puglia all'università di bari la consegna dei diplomi e lavorati in periodo covid omaggio alle vittime del covid all'evento hanno partecipato oltre al rettore stefano brunzini anche il presidente della regione puglia michele emiliano e il sindaco di bari antonio de garo previsto anche un omaggio musicale a morricone bollettino coronavirus puglia 6 coronavirus della puglia nessun caso nessun caso e zero decessi e quanto afferma il bollettino regionale per 6 luglio 2020 complessivamente sono stati effettuati 727 test senza rilevare alcuna positività bari sequestrato deposito abusivo di prodotti ittici controlli della guardia costiera assieme a veterinari e tecnici dell'asal di bari hanno portato alla chiusura di un deposito di circa 200 metri quadri composto da zona di lavorazione due celle frigo e relative attrezzature utilizzate per lo stoccaggio e la trasformazione dei prodotti notizie da treviso e dal veneto si sveglia riconosce i genitori l'amico di vittoria non sa ancora che lei è morta lo schianto di farra appunto papà e mamma hanno potuto abbracciarlo al caffoncello hanno detto ha pronunciato poche parole gli diremo della ragazza quando starà meglio maser e due fratelli toccano i fili dell'alta tensione e restano ostionati protagonisti due fratelli in bianchini di riese più decimo stanno lavorando sulle pareti esterne di un'azienda di via mattei o pc e omicidio vai la difesa chiederà la perizia psichiatrica i legali di patrizia armellini angelica carmaci puntano sull'esame che stabilisca la piena capacità di agire le due sono accusate di omicidio volontario premeditato con l'aggravante della minorata difesa della convivenza e di aver agito di notte sondaggio di gradimento dei sintaci mario conte 39esimi in italia per il sole 24 ore il sindaco di treviso si assesta nella prima metà della classifica guidata da de caro di bari ultime posizioni invece per orlando a palermo e raggi a roma cade il galletto verso la chiusura ironia dice impugneremo il licenziamento interessamento del sindaco mario conte sulla vicenda sindacato rilancia e chiede all'apertura di un confronto insieme alle associazioni di categoria notizie dal friuli venezia giulia sanità friuli venezia giulia promossa dopo i primi 100 giorni di covid reattiva efficiente e pronte alle sfide future questa la fotografia è emersa nel corso di un webinar congiunto asuf e dame con i maggiori attori clinici e politici di università e regione una sanità quella friulana che ha saputo reagire con prontezza all'emergenza e che all'alba dei primi 100 giorni dalla pandemia si ritrova potenziata e ancora più consapevole sicuramente certa dell'importanza di riuscire a fare fronte comune innanzi a sfide globali lavorando insieme e integrando abilità e conoscenza e senza dubbio un ritratto confortante quello designato lunedì 6 luglio nel corso del webinar covid 19 tra azienda e università l'esperienza dei primi 100 giorni a cura dell'azienda sanitaria universitaria friule centrale l'asuf e del dipartimento di area medica dell'università di udine dame aperto appunto da laura regattina direttore sanitario asuf e da leonardo alberti seghi direttore e di dame tamponamento a rientro dal lavoro successo nel tardo pomeriggio a rodiano basso in comune di rive d'arcano incidente nel pomeriggio nel tardo pomeriggio in comune di rive d'arcano per causa in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale di san daniele del friuli che sono intervenuti per lievi la viabilità si è verificato un tamponamento lungo via nazionale nella località di rodiano basso a settembre nuovi cantieri a prata di pordenone al vie lavori in via nogherate strada delle liti e la riqualificazione di via da vinci a ghirano il comune di prata sta lavorando su due progetti molto importanti per il territorio il primo riguarda l'asfaltatura l'asfaltatura di via nogherate e strada delle liti con relativa messa in sicurezza dell'incrocio tra le due strade attualmente il manto delle due si presenta deteriorato da tempo e quindi era indispensabile intervenire i lavori inizieranno nel mese di settembre con l'occasione si metterà in sicurezza l'incrocio luogo di pericolosi sorpassi che così facendo verranno evitati rete ferroviaria italiana la cantiere tra bivio da orisina e trieste dopo la frana che ha interessato la linea da mercoledì 8 la circolazione sarà sospesa sul binario lato monte per completare i lavori di consolidamento per consentire completamente dei lavori di rete ferroviaria italiana per consolidamento del costone roccioso franata appunto il 22 giugno nei pressi di bivio da orisina la circolazione la circolazione ferroviaria sarà sospesa sul binario lato monte in direzione di trieste centrale dalle 9 di mercoledì 8 luglio fino a venerdì 21 agosto il traffico ferroviario si svolgerà a senso alternato sul binario lato mare quello in direzione udine venezia zoppola ha preso l'autore della rapina al supermercato i carabinieri hanno denunciato il giovanissimo ladro classe 2001 che armato di coltello si era fatto consegnare circa 2000 euro i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di pordenone hanno preso l'autore della rapina compiuta venerdì scorso poco prima dell'orario di chiusura nel supermercato conad di zoppola si tratta di un giovanissimo ladro classe 2001 che si era presentato a volto coperto e armato di un coltello da cucina seminando il panico tra i dipendenti e si era impossessato dell'incasso circa 2000 euro prima di fuggire a piedi facendo perdere le proprie tracce cari amici è tutto per oggi termina qui questa edizione della rassegna stampa in studio con voi rosario moreno buon proseguimento con la programmazione